E adesso il mercato. A Salerno si sono anticipati di qualche giorno con l'arrivo di Giacomini, a Pagani non hanno perso tempo e dietro l'ingaggio di Cuoghi c'erano già trattative ben avviate riguardanti alcuni elementi nel merino da tempo del Digideboli. Su tutti Samuele Pizza, centrocampista del Viareggio che non ha vissuto una parentesi felice da gennaio ad Avellino, ma che in campagna ci resterà, ritrovando Cuoghi che lo aveva fatto crescere non poco nell'anno trascorso insieme in Toscana. Ma il presidente Trapani e il Digideboli hanno le idee chiare su cosa fare, su come intervenire. C'è da rifare da capo un'intera rosa o quasi, qualche giovane però rimarrà. Il tecnico Cuoghi infatti, dopo la presentazione dell'altro giorno, ha voluto anche tutti i DVD delle partite giocate dalla Paganese quest'anno, in particolare forse per osservare da vicino e meglio qualche giovane che ha dibottato sul finire della stagione. Possibilità per rimanere per qualcuno ce ne sono. Per gli altri, come diciamo da tempo, si provvederà al prestito in Serie D. Intanto Deboli avrebbe riallacciato rapporti con Verona e Parma. Qualcosa ne verrà fuori per avere giovani interessanti. Col Genoa si dovrà invece discutere della conferma o meno di William. Per la Salernitana invece si rimane fermi a Giacomini per il fronte mercato. E poi c'è l'inghippo relativo al ritiro precampionato. Niente pizzoferrato, si sceglierà un'altra località. Mario Somma attende nuova sede, e soprattutto i primi squilli di tromba per quanto riguarda il mercato in entrata. Vuole giocatori importanti? Vedremo se arriveranno nei prossimi giorni.